Ciao, sono Valerio Novara. Sono passati 13 anni da quando il primo avatar di James Cameron ha rivoluzionato il panorama cinematografico e ha surclassato le classifiche di tutto il mondo. Ora il tanto atteso sequel, Avatar La Via dell'Acqua, sta finalmente per arrivare nei cinema italiani il prossimo 14 dicembre. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, il nuovo avatar racconta la storia della famiglia Sully, Jake nei tiri e i loro figli, dei pericoli che li aspettano, delle battaglie che combatteranno per rimanere in vita e le tragedie che inevitabilmente dovranno affrontare per tutto il corso del film. La coppia è costretta a fuggire dalla terra al mondo acquatico della Metcaina, scenario che sarà preponderante per tutto il film. Il trailer di Avatar 2, rilasciato in questi giorni, non manca di spettacolari filmati oceanici e scene che colpiscono anche per la capacità di trattenere il respiro sott'acqua del cast che, ha raccontato, si è allenato con professionisti dell'apnea per girare le scene sott'acqua. Le star originali del primo film, Sam Wartington e Zoe Saldana, riprenderanno i rispettivi ruoli di Jake nei tiri, con il ritorno di Sigourney Weaver. Anche le new entry Kate Winslet e Michelle Yeoh faranno parte del misterioso mondo di Pandora, ma a tutt'oggi i loro ruoli non sono stati ancora svelati. Il film durerà solo 4 minuti in meno rispetto a Titanic, dello stesso James Cameron, quindi ci aspettano 3 ore e 10 minuti di pura adrenalina. Da sottolineare, tra l'altro, che il primo film uscito nel 2009 è durato 2 ore e 41 minuti, esattamente mezz'ora in meno rispetto al seguito. In realtà, il film era stato già presentato a gennaio 2020, ma la pandemia ovviamente ne ha posticipato la data d'uscita. Cameron ha poi confermato che comunque Avatar 2 non avrebbe debuttato in streaming, ma solo al cinema. A parte la storia d'amore fra Jake e Nei Tiri e il conflitto al centro della storia, La Via dell'Acqua parlerà di cambiamento climatico e dell'importanza di preservare gli oceani. Mentre il primo film trattava di temi come la deforestazione e questa battaglia per depredare da parte degli esseri umani in un nuovo pianeta scoperto, quest'altro, tra l'altro, è stato girato con molte scene alle cascate del Niagara, sarà più sull'oceanografia, che è una delle passioni proprio del regista James Cameron. Insomma, non resta che aspettare l'uscita al cinema di Avatar 2 e vedere se sarà all'altezza del primo film. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanellina e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram di Ciac e Azione, dove pubblichiamo tutti i giorni le news e i contenuti più interessanti che riguardano il cinema e le serie di V.